Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Warlast Games Oggi torniamo su Ancestor con la puntata, il mega episodio che avevo registrato ma che poi in fin dei conti mi sono reso conto fosse troppo grosso, troppo lungo e allora questo è l'inizio della terza parte Buon divertimento Allora Piccola mutazione Ah piccola mutazione Comunicazione Vediamo un attimo se No Ah lui Affronta meglio il perico, ma si vede anche questo qua C'aveva la faccia giusta Allora Abbiamo dormito Boh, suppongo di sì E niente, si va all'avventura Dammi qualche piccolo Questo è figlio mio No Questo è figlio mio No Questo è figlio mio No cambia Vabbè guarda Porta in spalla Puoi? Questo qua? Figo mio? Va bene Va bene Guarda via i figlioli Va Oh posto Andiamo all'avventura Ah andiamo a vedere Il Il meteorite E i bimbi Facciamo vedere anche le meteorite Guardate ragazzi Come ci schiantiamo Male tra l'altro Mai Veramente mai In questo gioco Stare in terra Perché Non è pericoloso Di più Chi è qua? No ma sono i miei Questi Sì Sono tutti lì Figurati Tutti odori che riconosco Sì Ci sono animali Bestie E robe No vero? Ma il pericolo È sempre dietro l'angolo Ok Solo 6T Perché non lo vedo Scusa Ah ok Niente Va bene Ma c'è del cibo anche Da ste parti Scusate No? Ma è buono Eh perché io Se c'è del cibo Me lo mangio anche Comunque A parte tutto C'è anche tipo Mezzo volentieri Vabbè Vediamo l'acqua Che dall'acqua C'è sempre roba Beviamo un po' Beviamo un po' Scusate 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 al ramo secco qua ok ok ci prendiamo anche questo lo modifichiamo è un processo un po' lungo e noioso magari si sbloccherà un perk per farlo più velocemente sicuramente è veramente lunga la cosa no riprendimelo grazie perfetto adesso andiamo cosa abbiamo preso ancora fastidio io volo i pesci sul sito di pesca vai dove c'è il sito di eccolo ok mi sembra tranquillo ma ci sono solo ste robe qua boh poi diventi più forte cioè io dico per te allora adesso andiamo su e controlliamo dove c'è il fumo non so come si possa mai vedere qua però non so non so non so non so ancora è in se cascavo qua alla fine ma era tanto alla fine vabbè andiamo lì a questo punto ah niente è già scoperto ah sono dei punti di sincronizzazione questi praticamente come Assassin's Creed che tra l'altro il capo del progetto di Assassin's Creed è lo stesso di questo gioco qua quindi praticamente è un Assassin's Creed molto scimiesco cioè vabbè insomma la fase esplorativa un po' lo ricordo effettivamente però vabbè è totalmente un altro gioco assolutamente merda un po' lo ricordo andiamo un po' a fare brutto a fare brutto è solo provarci quindi qua a farlo splendido che comunque noi però nel dubbio ci allontaniamo ci allontaniamo si sa mai che vorrei problematiche allora dobbiamo trovare questo fumo qua da dove arrivava da laggiù quindi lì cosa c'è memorizziamo vai saliamo e non si va da nessuna parte vile sta arrivando in qua veloce vai vediamo un po' se c'è qualcuno ferma lì che tolisto non so io lo identifico in vari modi magari boh più modi lo identifichi meglio vien non so insomma sicuramente più sviluppiamo i sensi quello è poco ma sicuro e andiamo un po' a vedere qua dove arriviamo oh madonna che pelo secondo me voglio dire magari non si fa male però boh manco bene probabilmente perché insomma un volo del genere proprio di pianta di piede non so io non lo proverei magari lui è scimmia pavua però insomma ok ma guarda te che persona audace aspetta un po' proviamo un po' sta cosa qua ok allora aspetta però prima devo controllare che non ci siano bestie malvagie in zona pare di no eh però vabbè analizza merda vai via no vabbè ma no aspetta ma dov'è no ma lontanissimo no mi sono spaventato un botto vai analizza tranquillo sembrava ce l'avessi attaccata dietro al culo oh madonna oddio però sembra che ce l'ho dietro ma che ansia incredibile analizza da qua dai eh però sembrava lì ok solleva vai merda oè se credi che c'ho paura ma se tipo glielo lancio non posso eh sarebbe tanta roba c'hai un bastone appuntito però dopamina bassa amico andiamo lassù che vedrai che qua stai serena perché veramente chi è che ti viene a dire qualcosa qua andiamo a cercare qualcosa di cibo vai eccolo vedrai anche qua ma se andiamo maniava eccolo cambia mano ferra magna no mangia vai vai che ti fa bene vinto ancora posto chi è acqua acqua no memorizza vai ma guardate come siamo agili scattanti come siamo agili e scattanti scopri vai nuova zona cascata da scogliera non è bella come la nostra cascata però è comunque una cascata la nostra cascata è molto più bella assolutamente va bene signori per questo episodio direi che può finire qui noi ci vediamo sempre su worldass games con il prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti